I fiocchi bianchi scendono sulle Dolomiti. Come da previsioni, la neve ha iniziato a imbiancare il territorio da venerdì mattina. Sono attesi più di 50 centimetri di coltre bianca. Una grande gioia per chi sta trascorrendo le vacanze nell'area del Bellunese e per gli operatori del settore. Intanto, gli ingressi sulle piste da sci nella prima settimana dell'anno hanno registrato un ottimo risultato e certamente le nuove precipitazioni fanno prevedere un'impennata della stagione. Previste copiose e nevicate almeno per tre giorni.